ecco qua stiamo curiosando nelle cucine nell'antico fogolare di Villa Fiorentino per la serata vini e sapori campani chef che cosa ci state preparando? stiamo facendo risotto e limone il limone di sorrento non poteva mancare il nostro risotto adesso stiamo andando a mandegare il nostro risotto con succo di limone, burro e parmigiano e già ci sta venendo l'acquolina in bocca questo è il succo di limone, abbiamo precedentemente prima spremuto, ho messo le bucce e adesso andiamo a mandegare siamo all'atto finale, mi dispiace che col video non si sente anche il profumo perché è semplicemente inebriante eccolo qua eccoci qua, adesso la signora fa anche la prova devo fare la prova la prova del 10, vediamo se è buono oppure no io sono severa allora vediamo un po', assaggia prima facciamo assaggiare a Peppe, così io posso riprenderlo ok, vediamo un po' che cosa ne esce buonissimo Peppe, l'espressione del tuo viso dice tutto è buonissimo e poi si sente un sapore del limone nostrano che è spettacolare perfetto, ma peccato dicevo prima che non si possa sentire anche il profumo di questa pietanza qua un'energica mescolata cotto e mangiato, adesso andiamo a servire i nostri clienti grazie grazie a voi chef dimmi il tuo nome Alessio Iberiale Alessio un attimo solo ecco la signora sta aspettando il nostro risotto ecco qua abbiamo anche impiattato perfetto un pochettino grazie prego, buon appetito grazie grazie grazie